non lo so di male forse si vita si scende? si scende? si può scendere? ho già capito che scendo da qua va se te pazzi vuoi da qua cazzo scende da qua e buttati un cazzo se inciampo mi ammazzo se inciampo ma sei fuori? bello si si qua si può vendersi in moto eh pietro qua lo facciamo già un bel colpetto ma sei inciampo eppure li fanno eppure li fanno eppure li fanno qua senza senza l'inconsa no ehi da sotto lì usano quello sotto eh ma di che cosa? e da su di qui con la mezza? si va in su va in su bravo una scapula va bene va bene va bene come paletta del gelato o no? mi tieni la paletta del gelato un momento? che cazzo è questo? eh indovina ma che schifo cazzo un osso come che schifo? ma vaffanculo va guarda che schifo ma scusami eh per un cane sarebbero gli altri lo possiamo lavorare lo lavoriamo guarda di un cervo eh me l'hanno buttato è facile che sia un cervo tipo e si un cervo percorso e quello vuoi che sia ma cos'è un'altra scatola? sarà quello della spalla penso penso o di qualcuno che è caduto qua ci ha lasciato l'anca la motosega l'hanno recuperata la motosega l'hanno l'acqua come l'hanno bello che bello dai giù il sedere fa una scivolata sai che quasi quasi mi piace di più lì in alto? però non 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 non